Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Sulla Fibili per intervento di ripristino frana chiusura dell'uscita verso via Quaglierini in direzione mare. Per lavori è chiusa l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. La statale 64 Porrettana è chiusa tra Pavana e Ponte della Venturina a causa di una frana. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze, restringimenti di carreggiata in Viale di Mille per lavori all'incrocio con via Pacinotti. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie!